Con Mattia Zennaro, benvenuto a Lucca. Cosa ti ha spinto ad accettare questa nuova avventura, Mattia? Sono stato subito colpito, perché comunque mi hanno parlato bene tutti di questa grandissima piazza. Sono molto contento di essere qui e bisogna ringraziare anche il Bomber Bianchi, che è un mio ex collega, tra virgolette, che mi ha parlato molto bene del gruppo, della società, di tutto in generale. E soprattutto anche dei tifosi che mi hanno detto che sono molto uniti alla maglia. Per chi ancora non ti conosce, descriviti come giocatore. No, io sono un centrocampista, sono più offensivo che difensivo e mi piace fare anche il trequartista se serve. Benvenuto a Lucca e in bocca al lupo. Grazie mille, crepe il lupo.